Salve a tutti, in questo video vorrei parlarvi della querela contro David Parenzo, i fatti sono abbastanza noti, Parenzo da circa 15 mesi da quando è scoppiata la guerra ha iniziato un vero e proprio cannoneggiamento mediatico contro di me che è culminato, se ricordo bene, nella puntata trasmissione di Radio 24 il 23 febbraio scorso, quando Parenzo mi ha definito ripetutamente feccia intellettuale. Professore Orsini è feccia intellettuale, feccia intellettuale, feccia, feccia, feccia intellettuale. Questo video in realtà ha due finalità, da una parte voglio raccontarvi, da una parte voglio sottoporre a verifica empirica queste parole di Parenzo, quindi ragioneremo su questo, se effettivamente io sia feccia intellettuale, quindi vi racconterò un po' di cose che faccio alla LUIS, che nessuno ha mai raccontato, ma che sono comunque informazioni pubbliche nella disponibilità di tutti, e poi voglio sviluppare una riflessione breve sulla società libera, se l'Italia sia una società libera, se lo sia pienamente, in che senso, quindi chiaramente questo video su Parenzo è un pretesto per parlare di qualcosa di ben più importante di Parenzo, vale a dire lo stato della libertà dell'informazione in Italia, in particolare quel segmento dell'informazione che è la politica internazionale. La mia tesi è nota e ritengo che, la mia tesi è che il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale sia completamente corrotto e credo che questo sia un grande problema per una società libera, perché l'informazione sulla politica internazionale, in particolare sulla sicurezza internazionale, è importantissima, è il segmento dell'informazione più importante di tutti, perché la politica internazionale è in ultima istanza questione di vita o di morte, quindi se noi non siamo informati correttamente su quello che accade in Ucraina, su quello che accade in Siria, sulle cause che hanno portato alla guerra in Ucraina, siamo tutti in pericolo, chiaramente. Quindi lo ripeto, a mio giudizio, il segmento dell'informazione più importante di tutti è quello relativo alla politica internazionale e in particolare alla sicurezza internazionale e secondo me quel segmento dell'informazione è completamente corrotto. Se noi non fossimo informati correttamente, non so, sul reddito di cittadinanza, sulle politiche fiscali, questo sarebbe grave, se non siamo informati correttamente sulla politica internazionale, questo è un fatto gravissimo. Veniamo a Parenzo. Proviamo a sottoporre a verifica empirica questa affermazione, secondo cui sarei feccia intellettuale. Questo per me è molto importante anche perché mi consente di smentire una serie di fake news che continuano a circolare e che vengono utilizzate per bersagliarmi, come ad esempio quella secondo cui io sarei stato licenziato dalla Lewis. Considerate che il Corriere della Sera, e questa è una delle ragioni per cui ho querelato il Corriere della Sera, scrisse addirittura ancora a giugno nel celebre o forse dovrei dire famigerato articolo sui putiniani d'Italia che la Lewis mi aveva licenziato, così ha scritto nero su bianco. Questo è assolutamente falso. Allora, iniziamo. Che cosa io faccia alla Lewis? È importante saperlo. La Lewis ha investito per quanto riguarda gli studi sulla sicurezza internazionale soltanto su una persona finora. L'unico professore di ruolo della Lewis, esperto in violenza, conflitti, sicurezza internazionale in senso ampio, è il sottoscritto. Quindi sempre per sottoporre a verifica empirica questa tesi di Parenzo secondo cui io sarei feccia intellettuale. Prima che io arrivassi alla Lewis, prima che io fossi chiamato come professore di ruolo, alla Lewis non esistevano ricerche scientifiche sulla sicurezza internazionale, sostanzialmente gli studi sulla sicurezza internazionale non erano coltivati e non esistevano corsi di laurea dedicati alla sicurezza internazionale. Tutto questo alla Lewis si è sviluppato dopo il mio arrivo e io ho iniziato alla Lewis a insegnare come professore a contratto nel 2010, sono diventato poi professore di ruolo nel 2016. Alla Lewis ho portato una quantità di fondi per lo studio, per la ricerca della sicurezza internazionale enormi, fondi spaventosamente grandi e la Lewis ha scoperto grazie ai miei studi e grazie ai miei corsi che il settore di studi sicurezza internazionale era un settore di studi molto importante su cui valeva la pena investire. Quindi il corso di laurea magistrale della Lewis in Security Studies è nato dopo il mio arrivo alla Lewis, così come tutto quello che la Lewis ha fatto nel campo della sicurezza internazionale è arrivato dopo il mio arrivo come professore di ruolo in quell'università. Allo stato attuale, mentre vi parlo nel maggio del 2023, sempre per sottoporre a verifica empirica questa tesi di Parenzo, secondo cui sarei feccia intellettuale, allo stato attuale, mentre vi parlo in maggio 2023, alla Lewis continua a esistere un solo professore di ruolo specializzato in guerre, violenza, terrorismo, eccetera, che è il sottoscritto. Dove insegno? Io insegno nella laurea triennale al primo anno, un corso fondamentale che si chiama Sociologia Generale, e poi insegno in lingua inglese nella laurea magistrale, in particolare nel percorso di studi denominato Security Studies. Attenzione, seguitemi sempre per capire questo discorso di Parenzo della feccia intellettuale. In quel segmento, in quel corso, in quel percorso di studi, quello in Security Studies, il mio corso, in lingua inglese, si chiama, è definito Track Leader, cioè significa che il corso è più importante. Infatti, in quel segmento particolare, in quella magistrale, ci sono tre professori. Due sono professori a contratto, uno soltanto è un professore di ruolo, cioè il sottoscritto. I professori a contratto sono professori non della Lewis, sono professori che hanno un contratto di diritto privato che dura 12 mesi, che può essere rinnovato, oppure no. In alcuni casi, il professore a contratto è un professore di ruolo in altri casi non è un professore, magari è una persona che non ha nemmeno il dottorato di ricerca, ma che si è distinta in un certo settore che ha raggiunto l'eccellenza, in un certo settore può essere un generale dell'esercito, può essere un grande uomo d'affari, può essere un diplomatico, quello che vi pare. Resta il fatto che nella laurea magistrale della Lewis per corso in Security Studies, il corso più importante è quello che io insegno, appunto in lingua inglese. È tanto vero che quando la Lewis decise di lanciare la magistrale in Security Studies, adesso non ricordo esattamente le date, credo probabilmente sarà stato 2020, qualcosa del genere, il direttore del dipartimento, io chiaramente conservo questa sua email, mi scrisse che per poter lanciare questa magistrale in Security Studies era assolutamente necessario che io migrassi dalla triennale nella magistrale. Infatti, all'epoca dei fatti, io insegnavo due corsi, entrambi nella triennale, insegniamo Sociologia Generale e Sociologia del Terrorismo. Quindi il direttore del dipartimento mi disse, Alessandro tu devi spostarti, bisogna chiudere il corso di Sociologia del Terrorismo nella triennale e aprirlo nella magistrale, cosa che è accaduta. La controprova è che il mio corso di studi in quella magistrale in Security Studies è il corso fondamentale e che ho provato a chiedere informazioni, essendo un sociologo mi interessa comprendere anche il funzionamento della macchina amministrativa, del sistema burocratico, eccetera, eccetera. Ho detto, ma se io volessi tornare dalla magistrale nella triennale potrei? E la risposta è stata, no Alessandro, non potresti farlo perché il tuo corso è fondamentale, è fondamentale che rimanga nella magistrale, altrimenti la magistrale non può proseguire per quel settore, per quel percorso di studi in Security Studies perché lì abbiamo due professori a contratto, un solo professore di ruolo che sei tu, cioè tu sei il punto di riferimento dell'Università Lewis in questo campo di studi. Ovviamente questo è un canale in difesa della società libera, difendere la società libera significa anche difendere il progetto illuministico e quindi anche la ragione critica. Io sottopongo al vaglio della ragione l'affermazione di Parenzo, secondo cui io sarei feccia intellettuale. Tra le altre cose, mi domando se un'affermazione di questo tipo non abbia ricadute negative anche sull'immagine della Lewis, perché come se Parenzo dicesse che l'unico esperto, l'unico professore di ruolo della Lewis, esperto in sicurezza internazionale, è feccia intellettuale. Secondo me, questo è un insulto anche per tutta l'Università. Considerate inoltre che le schede di valutazione degli studenti della Lewis sono anonime. Io ho più di 200 studenti, quindi parliamo di una massa imponente di schede anonime e i miei corsi sono sempre, nella triennale era il corso che aveva i giudizi più alti da parte degli studenti o comunque uno di quelli che aveva i giudizi più alti, era sempre in detta e così sono rimasti i miei corsi alla Lewis. Questo sempre per rispondere anche al Corriere della Sera che ebbe a scrivere che la Lewis mi avrebbe licenziato, ma è assolutamente falso, non sono stato mai licenziato dalla Lewis, il resto alla Lewis, allo stato attuale come professore fondamentale nel percorso di studi in Security Studies. Quindi queste schede di valutazione, anche per quanto riguarda le domande relative alle qualità individuali del docente, io per mia fortuna e con mio grandissimo onore ho sempre avuto le valutazioni più alte o comunque tra le più alte in assoluto di tutto l'Ateneo. Perché poi la Lewis manda nei professori tutti i grafici, cioè le schede di valutazione con dei risultati, nei posti nei professori possiamo vedere anche i grafici, quindi fare confronti con la media raggiunta dagli altri professori, la media dell'Ateneo e io per fortuna sono sempre stato sopra la media e quindi quando io sento dire da una radio importante come Radio 24 che sono feccia intellettuale, in tutta onestà io in questa descrizione come feccia intellettuale non mi ci ritrovo, quindi il minimo che io potessi fare era appunto querelare Parenzo. A questo punto devo dirvi altre cose. Alla Lewis io sono stato il fondatore degli studi sulla sicurezza internazionale, ho fondato alla Lewis gli studi sulla sicurezza internazionale e ho fondato l'osservatorio sulla sicurezza internazionale nel 2016, l'ho diretto dal 2016 fino al 2022, fino alle mie analisi della guerra in Ucraina e a differenza di quello che ha scritto la stampa, assolutamente falso, infatti ho querelato anche la stampa per questo, la stampa ha scritto l'osservatorio sulla sicurezza internazionale della Lewis, non ha prodotto niente in sei anni, una menzogna assoluta, l'osservatorio di cui sono stato direttore ha prodotto moltissimo, ha pubblicato monografie accademiche, ha pubblicato articoli che sono stati pubblicati su riviste scientifiche considerate eccellenti dal Ministero dell'Università, ha pubblicato più di 13.500 articoli sulla politica internazionale perché oltre ad avere fondato l'osservatorio sulla sicurezza internazionale alla Lewis, ho fondato anche il primo quotidiano in Italia sulla sicurezza internazionale che si chiamava appunto sicurezza internazionale.luis.it che ha pubblicato oltre 13.500 articoli in un lasso di tempo relativamente breve, cioè tra il gennaio del 2017 se ricordo bene, fino alla chiusura dell'osservatorio e quindi anche del sito che è avvenuta intorno al mese di maggio del 2022. Perciò io in tutta onestà in questa definizione di feccia intellettuale non mi ci ritrovo, però devo raccontarvi anche qualcosa di molto divertente, che io Parenzo l'ho conosciuto di persona, sapete dove l'ho conosciuto? Alla Lewis, perché i vertici dell'università mi chiesero di partecipare a un incontro con Parenzo nella sala più importante della Lewis, c'erano anche altre 15-16 persone, c'erano fondamentalmente i vertici della Lewis, un pezzo dei vertici della Lewis, e perché Parenzo voleva avviare, adesso non so se lo abbia avviato realmente, ma il senso della riunione era che Parenzo era coinvolto in un progetto della Lewis. Ripeto, non so quale sia la natura dei rapporti tra Parenzo e la Lewis, non so se poi dopo questo progetto lo abbia realizzato davvero, comunque i giornalisti possono chiedere, io ho un mio grandissimo onore, so che questo canale è seguito anche da tanti giornalisti, quindi uno può fare anche un'indagine e chiedere qual è la natura dei rapporti tra Parenzo e la Lewis, e nel caso in cui Parenzo abbia rapporti con la Lewis, un rapporto di collaborazione, partecipi a un progetto, un simile rapporto di collaborazione è compatibile con una persona, Parenzo nello specifico, che dice che i professori della Lewis sono feccia intellettuale, non lo so se la Lewis abbia avuto una collaborazione con Parenzo, sicuramente quell'evento è stato fatto perché io vi ho partecipato, però non so se poi Parenzo abbia firmato qualcosa o non so se lui abbia qualche iniziativa in piedi con la Lewis. Se l'avesse, sottolineo al sé, la domanda è, ma la Lewis può avere una collaborazione con una persona che dice che i professori della Lewis sono feccia intellettuale, domanda legittima. Parenzo, in quella circostanza, quando lo conobbi, si presentò così davanti a tutti, quindi parliamo di testimonio, come un mio ammiratore, quindi ho fatto un discorso pieno di loti davanti ai 15, 16, non so, i vertici della Lewis in questa sala così bella e prestigiosa dicendo che sono un grande ammiratore del professor Orsini, credo che questa storia non ricorda esattamente le date, ma secondo me siamo intorno al 2017, 2018, qualcosa del genere, e volle anche farsi un selfie con me, mille complimenti, poi in una circostanza Radio 24 qualche anno fa disse anche, ah sì, il professor Alessandro Orsini, chi non lo conosce, grande professore della Lewis, grande professore della Lewis. Che cosa è successo poi? È successo che io ho raccontato tanti fatti in televisione e tante scelte del blocco occidentale in Ucraina e queste mie analisi non sono piaciute perché hanno mostrato quanto sia corrotto il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale, quindi io sono passato da essere un professore stimatissimo e dalle stesse persone che un tempo mi stimavano moltissimo, oggi invece mi insultano violentemente. A me non interessa il discorso sul piano personale, mi interessa raccontarvi questa storia perché il mio caso diventi un filtro sociologico per analizzare la società libera del nostro paese, sono tutti elementi che devono farci riflettere. A questo punto io vorrei spostare il discorso su un piano strettamente culturale, finora questo canale YouTube e in tante altre circostanze io ho fornito un'ampia documentazione a sostegno della mia tesi secondo cui il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è corrotto dalla testa ai piedi. Adesso però voglio, anche a causa della compenetrazione tra il potere politico, il potere accademico, il potere mediatico, adesso voglio fare un discorso però esclusivamente culturale. Ma vi rendete conto che il nostro paese non è in grado di accogliere la critica della politica internazionale? Così come esiste una critica della politica fiscale, una critica della politica del lavoro? Esiste, o meglio dovrebbe esistere in una società libera anche la critica della politica internazionale. Il fatto che le mie analisi sulla guerra in Ucraina abbiano prodotto una campagna di demonizzazione così violenta, così pervasiva e così duratura, che cosa significa? Significa che il nostro paese non è educato a criticare la politica internazionale e questo è gravissimo in una società libera perché la società libera è la custode del progetto illuministico e il progetto illuministico ha come pilastro la ragione critica. Questo significa che il sistema dell'informazione in Italia è talmente corrotto che ha prodotto un pensiero unico e la dimostrazione che è completamente corrotto proviene proprio dalle reazioni violente contro le mie analisi. Noi viviamo in un paese che dichiara di essere una società libera, che è violentemente intollerante, verso uno studioso, un esperto della materia che dica che documenti con tanto di riferimenti bibliografici, citazioni, dati, date, il fatto che la Nato abbia cercato di assorbire l'Ucraina nel proprio seno prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Io ci tengo a precisare che tutto quello che ho detto in televisione è frutto di ricerche accademiche. Io ho condotto ricerche accademiche poi confluite nel mio libro Ucraina critica della politica internazionale Paper First, che tra l'altro presenterò al Salone del Libro di Torino il 19 maggio, ho ricostruito le relazioni conflittuali tra la Nato e la Russia dal 1999, sostanzialmente, fine ai nostri giorni, e sono giunto alla conclusione che l'espansione della Nato in Ucraina ha creato un problema molto serio con la Russia. Per avere detto questo sono stato oggetto di una violenta campagna di demonizzazione e questo fa riflettere sullo stato della libertà del sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale. A questo punto vorrei concludere con una serie di ringraziamenti. Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono iscritti a questo canale, siamo più di 51.500, vi ringrazio con tutto il cuore, ogni iscrizione per me è un gesto di affetto, di vicinanza, di stima e di solidarietà di cui sono molto grato, che mi dà anche poi la forza di impegnarmi su YouTube. La ragione per cui non esistono pubblicità nei miei video è perché sono io che non le voglio. Mi sono state proposte, avrei potuto monetizzare, potrei monetizzare, ma ho detto di no, è tutto gratuito. Ovviamente io sono assolutamente favorevole alle pubblicità nei canali YouTube, anzi ci sono persone che lo fanno, io sono ben contento che qualcuno crei posti di lavoro, crei ricchezza o si procuri una fonte di guadagno per poter campare con i video YouTube, quindi non è assolutamente una critica nei confronti di coloro che inseriscono le pubblicità, però ci tengo moltissimo che voi sappiate che non trovate pubblicità nei miei video, non per un caso, ma perché sono io a non volerle. Quindi grazie di cuore a tutti coloro che si sono iscritti a questo canale, mi scuso ancora di realizzare soltanto un video alla settimana, mi rendo conto che sono piuttosto assente, ma come ho detto in più di un'occasione, in questo momento sono completamente assorbito, a me da molti mesi, nella scrittura del mio nuovo libro, è un lavoro iperimpegnativo, quindi spero presto di poter tornare a commentare più spesso, vorrei anche realizzare, magari non fra una settimana, spero di riuscirci prima un video per parlare di quello che sta accadendo in Ucraina. Grazie, grazie davvero e a presto!